E bentornati sul canale Cosmic Funny Comics Per adesso si chiama ancora così il canale, vi terremo aggiornati Stavo così sfogliando questo vecchio numero di Silver Surfer che mi sono fatto arrivare Dove affrontava, mi indovina un po', Mephisto, il diavolo della Marvel E salite, un debole per Mephisto, lo sapete, no? Eccolo qua, devo dire un bel numero, perché questo poi raccoglieva il numero 100 della serie di Silver Surfer Quando a un certo punto, così, all'improvviso, improvvisamente, mi è tornato in mente Mark Twain Sì, Mark Twain, lo scrittore quello del passato, no? Quello che è diventato famoso perché ha scritto il cartone animato di Huckleberry Finn Sì, quello che io guardavo da piccolo Che la sigla era cantata da Cristina Davina, eh, eh, eh Voglio dire, abbiamo detto tutto, no? Così, all'improvviso, improvvisamente, mi è tornato in mente Ta-ta-ta-tan! Mark Twain Eh, sì E cosa dire, insomma, a parte quei sui baffoni che portava E a parte che era pure un fasullo? Sì Perché non si chiamava Mark Twain, no? Scelse un nome fasullo, così Segna 2 Lui in verità si chiamava Samuel, non so che Samuel Jackson, probabilmente Anzi, un giorno mi sa che Samuel Jackson ci farà un film Sì, tanto Ormai E quindi, non so Proprio perché mi è tornato in mente così, casualmente Senza un motivo logico, no? Perché poi le cose Nella vita a volte succedono e basta le cose Non sempre c'è una spiegazione, no? Così Voglio ricordare qualcuna delle sue massime Qualcuno dei suoi aforismi Una che mi è piaciuta assai era Se votare facesse qualche differenza Non ce lo lascerebbero fare Verissimo Meglio dare che ricevere Soprattutto i consigli Anche questa Il paradiso Lo preferisco per il clima L'inferno Per la compagnia Ecco, a proposito di Dell'inferno E Dulce si infonda Non rimandare a domani Ciò che puoi fare benissimo Dopodomani Grande Mark, grande E con questo è tutto Dopodomani